Leonardo Salato, avvocato, è stato individuato dai coordinatori di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Udc e Centrali per la Sicilia per correre come candidato sindaco le prossime elezioni amministrative di Alcamo. Nella medesima riunione è stata ufficializzata anche la designazione del vice sindaco, l'avvocato Alessandro Fundarò di Fratelli d'Italia. Il nome di Salato è sintesi del confronto iniziato quasi tre mesi fa tra i big della politica alcamese provinciale dell'area di centrodestra. Alle riunioni preparatorie hanno preso parte gli assessori regionali Mimmo Turano e Tony Scilla, il componente del direttivo regionale di Diventerà Bellissima, Vincenzo Abate, e lo stesso Alessandro Fundarò per Fratelli d'Italia, mentre il coordinatore di Centrali per la Sicilia, Giovanni Marchese. Inizialmente Fratelli d'Italia aveva proposto la candidatura dello stesso Fundarò, mentre le componenti più centriste avevano puntato sul medico Filippo Pirrone, già consigliere, e assessore comunale nella giunta Scala. Il terzo nome, quello di Salato, ha messo d'accordo tutti e il passo indietro di Fundarò, che però è stato indicato vice sindaco in pectore, ha chiuso l'intesa. Il centrodestra dunque si propone unito alla sfida contro il sindaco Surdi, la cui recandidatura è scontata. Allora intanto tengo a precisare che io ho dato la mia disponibilità ad una coalizione e i componenti, le sigle che conoscete sono quelli che fanno parte della coalizione. Ci siamo incontrati, ci siamo guardati in faccia, abbiamo detto che siamo noi e andiamo avanti e io mi sono fatto garante di questa coalizione. Ovviamente non è una coalizione blindata, ovviamente vi è assoluta disponibilità ad allargare la coalizione, nei confronti di tutte le forze, che siano politiche, che siano sociali, che siano associazioni, comitati, gruppi che hanno l'interesse e le sorti della città e che comunque siano disponibili a condividere un progetto e un'idea.